Sicuramente la biblioteca LUIS è stata fin dal mio primo anno qui all'università notevolmente pubblicizzata. Sono venuta a conoscenza della biblioteca LUIS tramite le mie amiche. Studiando qui durante tutto il corso di studi. Attraverso il sito internet dell'università. I servizi di cui usufruisco abitualmente sono l'accesso alla sala referenza, risorse elettroniche, risorse d'oggi, riviste straniere, il catalogo online, il prestito di monografie e di determinati libri, monografie periodiche. Il sito web della biblioteca è molto chiaro. È stato sicuramente un passo in avanti per quanto riguarda la possibilità per i ragazzi anche da casa di poter effettuare delle ricerche sul catalogo della stessa e quindi consente di reperire tutte le informazioni necessarie. Avere la possibilità di ricercare anche prima di entrare in biblioteca la disponibilità di determinate monografie e anche la stessa disponibilità di periodici. Tra l'arrivo della rivista e la sua messa a disposizione degli utenti è sempre molto rapido. La biblioteca è sicuramente di facile accesso dotata di numerosi servizi da quelli elettronici a quelli non elettronici, ben fornita sotto tutti gli aspetti, molto utile, molta flessibilità. Rappresenta un ottimo strumento per facilitare e velocizzare le proprie consultazioni per ogni tipo di ricerca.